hanno meritato hanno meritato quando hai la possibilità quando hai la possibilità di azzannare la partita e non la zanni poi ci sta l'episodio che te lo pigli nel culo noi già si era rischiato con quel colpo di testa di Sanchez eh calo mister io non so se sia colpa tua o di qualcun altro diciamo che per come ci siamo arrivati perdere la cosa sia stato un affare diciamo che loro hanno meritato di vincerla diciamo che il giorno che piglierete Alexandro lo spedirete a calcio nel culo in Brasile sarà sempre troppo tardi sempre troppo tardi oggi perdiamo la partita grazie a due errori individuali grazie a due uno schieramento tattico esemplare uno schieramento tattico esemplare ma oggi perdiamo la partita per due errori individuali il primo sul calcio di rigore l'errore lì non è di Desciglio è di Rugani che deve andare a chiudere e lasciamo stare va bene il secondo il signor alessandro stoppa la palla in area di rigore perché noi bisogna sempre giocare la palla in area di rigore mortacci vostri e si finisce così si finisce per regalare le partite a loro che l'hanno meritata zitti prendere e portare a casa punto caro mister vediamo di fare un po' di pulizia anzi no mister arriva bene qui non è la Ferrari qui non è la Ferrari che si fanno gli accordicchi per far cagare un paio d'anni poi chissà ritornare a vincere chissà no vediamo di fare pulizia Rugani eh Alessandro fuori dai coglioni fuori dai coglioni questa gente Alessandro lo dico da tre anni che è cotto lo dico che c'era ancora Allegri lo dico che dal dopo Cardiff che Alessandro è cotto non ce la fa più Alessandro è dannoso è inutile è dannoso non sa difendere non sa difendere perché e poi mister mister ma non l'ho capito stavi stavi aspettando il centoventesimo per mettere Bonucci sapete cosa mi ha ricordato il gol di Sanchez stasera il gol della Corea contro l'Italia il gol del 2 a 1 quello di Han che stava entrando Montella e non fece in tempo ad entrare e così mi è apparso oggi non so se essere più incazzato o deluso a proposito quello che sulla cosa condivido arriva bene una cosa condivido arriva bene che il signor di Bala dice che il rinoto lo devi guadagnare perché oggi ha fatto è sparito dal campo non è esistito ha fatto quel tiro ma poi non si è visto proprio invece io devo fare l'elogio a un ragazzo Morata che ho criticato fino a due partite fa Morata oggi nel primo tempo si è preso veramente alla squadra sulle spalle questo ragazzo ed è incomiabile lo stesso McKennie si è impegnato poi è chiaro che ha limiti tecnici ragazzi se leggiamo le formazioni dell'inizio noi dovevamo perdere 3-4-0 con questi qua e stavamo l'impresa per me era a portata di mano non ci hanno creduto non ci hanno creduto questo è quanto non ci hanno creduto una punta serve come il pane perché McKenn è impresentabile non mi dite niente ragazzi Moise McKenn è impresentabile non ha toccato un pallone che è uno non ha toccato un pallone che è uno Moise McKenn ma dove cazzo vogliamo andare con questi soldati loro hanno meritato di vincere a parte il fatto che per me c'era per me quello di Chiellini su parella era rigore forse c'era anche un altro su bastoni comunque però attenzione però attenzione nel secondo tempo nel secondo tempo c'è quella manata di bastoni su McKenn per me attenzione non è niente non è niente per me attenzione ma l'anno scorso a Napoli ci fischiarono il calcio di rigore quindi se come penso io questa è una calciopoli light che stiamo vivendo nel senso che qua siamo già a metà gennaio e qua non solo non abbiamo preso nessuno ma neanche se ne sente l'odore di prendere qualcuno con chiesa infortunato io davvero ragazzi questi questi non ne avevano più avete visto come hanno festeggiato il gol della vittoria questi non ne avevano più questi non ne avevano più non ce la facevano più una volta che ha tolto quei due davanti Geco e Lautaro questi non ce la facevano più non ce la facevano più erano cotti erano cotti noi non li abbiamo aggrediti e ce lo siamo preso nel culo perché perché noi abbiamo ancora la pretensa di far giocare l'Alexandro nella Juventus io non per loro hanno vinto godono e fanno bene a goderselo fanno bene a goderselo è il loro momento hanno vinto una partita che non dico assai con la Juve dell'anno scorso non avrebbero vinto con la Juve dell'anno scorso questa partita non l'avrebbero vinta perché l'anno scorso sapevamo far più male non solo perché c'era Ronaldo ragazzi fatto sta che forse l'unico trofeo che avevamo portato di mano quest'anno è partito per la tangente ecco perché si poteva fare si poteva fare veramente ragazzi secondo me loro sono loro sono entrati in campo sicuri di perdere la partita e poi c'è il pasticcio di Scesdi ma io non lo so ma davvero dove cazzo veramente ci manca ora ci manca che entri in società Binotto abbiamo fatto scopa ci manca che entri in società Binotto abbiamo fatto scopa veramente io se arriva bene serve a fare Carlo Elkan se arriva bene serve a fare alla Juve quello che avete fatto in Ferrari nel 2020 levatevi dai coglioni e vendetela alla società levatevi dai coglioni vendetela alla società l'Inter il Milan l'Inter vedete ha dimostrato che c'è vita oltre Moratti poi lasciamo stare i conti dei cinesi non sappiamo com'è la loro storia ma loro hanno dimostrato che c'è vita oltre Moratti il Milan pian piano sta dimostrando che c'è vita oltre Berlusconi noi non è che si deve per forza perché alla famiglia Elkan l'abbiamo capito della Juve non gliene frega un cazzo il presidente non era in tribuna non lo so mi pare che è positivo al covid qualcuno li correga ma John Elkan della Juve non gliene è mai fregato un cazzo si ha messo i soldi per ripianare tutto sto casino di questi due anni fra acquisti sbagliati gestioni sbagliate covid e tutto il resto manca i tintroni di da stadio che ce lo siamo presi nel culo di brutto dal punto di vista economico pasticci come quello di Suarez caro John Elkan se il figlio cioè la moneta il ricambio con chi di dovere deve essere questo schifo vendete la società vendetela 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 si sopravvive anche senza di voi trovate un fondo come hanno fatto Inter e Milan trovate uno sceicco non lo so ecco datelo lo sceicco del Newcastle la Juventus datelo lo sceicco del Newcastle la Juventus per favore per favore datelo lo sceicco del Newcastle se questo deve essere l'atteggiamento oggi veramente oggi da salvare Morata Morata da salvare McKennie Chiellini e chi altro Chiellini e basta il resto assurdo loro avrebbero loro avrebbero meritato di vincere già nel primo tempo ma siamo arrivati ai supplementari che erano cotti erano letteralmente cotti non stavano sulle gambe e noi sembrava la Juve di Sarri e quando cazzo tiriamo in porta il tiro dalla distanza quando? poi Allegri non mi piace non so perché ha tolto Locatelli quella sostituzione non l'ho molto capita abbiamo Rabiot che per me doveva essere mandato a fare i cartoni per quel che mi riguarda io non so a meno che questo non ha deciso di puntare tutto sul quarto posto ma il quarto posto lo vedi al binocolo così forse ci siamo un po' illusi della vittoria di Roma forse domenica si è suicidata la Roma e noi ci siamo illusi e addirittura ci possiamo permettere il lusso di fare il pasticcio del Green Pass con i Cesni onore a loro che hanno vinto meritatamente perché ci hanno creduto nonostante fossero cotti oramai fisicamente ci hanno creduto hanno vinto un applauso a loro iscrivetevi al canale grazie a tutti